Canalizzazione principale di domenica. Yellowstone, 4 giugno 2017. Saluti miei cari, io sono Crayon del servizio magnetico. Stasera voglio darvi una storia. È una storia d'amore. Succede anche che abbraccia la storia del pianeta, l'adesso, il futuro, cose che voglio dirvi, cose che voglio qualificare. Si chiama Lo Stato della Terra nel giugno 2017. È una storia d'amore per dove ha avuto inizio e per come è incominciata. Se andate indietro di 14 anni, le canalizzazioni di Crayon sono iniziate nel libro 1. E vi ho detto alcune cose che sono state dette. È stata principalmente un'introduzione al cambiamento. Io e molti altri, che potreste chiamare Reame Angelico, o in altro modo, le voci provenienti dalla sorgente centrale, hanno iniziato a darvi informazioni su qualcosa che gli antichi e gli antenati già sapevano. Hanno guardato al cielo e alle stelle per centinaia di anni e compresero che il cielo cambiava leggermente decade, dopo decade, dopo decade. Iniziarono a capire le meccaniche del sistema solare. Avevano capito prima dei moderni telescopi che la Terra girava attorno al Sole, che la Terra aveva un'oscillazione e persino la sua durata. E nel corso del tempo svilupparono una profezia che tra gli antichi era molto simile, e ancora oggi rimanete colpiti quando la comparate, e non si conoscevano tra loro. I calendari iniziarono il computo lungo che parlava di un cambiamento di coscienza e tutto ciò che c'è a riguardo. Nel 1989 il mio partner ha iniziato a parlare per me, due anni dopo la convergenza armonica, una dichiarazione che diceva che potrebbe accadere un cambiamento, che qualcosa sta accadendo. Nel 1993 vi ho dato l'informazione sul perché siamo qui, cosa stava accadendo e cosa sarebbe accaduto. Un libro criptico, piccolo, poiché il mio partner stava appena imparando il come. E potreste chiedere. Come fare e cosa? E la risposta ce l'avete oggi. È possibile che possa esserci una coerenza con la sorgente centrale? E la risposta è sì. Questo spiega la canalizzazione, l'intuizione aumentata, il ponte con l'altro lato del velo, il sentimento di amore totale. E in questo primo libro vi ho dato informazioni sul magnetismo del pianeta e molto di più. Qualcuno ha detto che era criptico e che erano solo poche frasi, ma vi ho dato l'informazione sul cambiamento climatico. Il mio partner l'ha interpretato in questo modo, ha detto. Ci saranno tempi e posti in cui ha sempre piovuto in cui non pioverà più, e luoghi dove non ha mai piovuto in cui improvvisamente comincerà a piovere. In altre parole un potente cambiamento climatico. Questo è stato nel 1993. Questo è stato il preludio di ciò che state sperimentando adesso sul pianeta. Questa è una storia d'amore, miei cari, e la storia è l'amore di Dio, l'amore della sorgente centrale, l'amore di tutto ciò che è Gaia stessa per l'essere umano. Riguarda voi, miei cari, le anime antiche sulla Terra che sono qui con uno scopo in questo tempo. Non c'è alcun errore, voi siete i semi di questo tempo. Qualcuno di voi ha appena imparato qualcosa su queste cose, altri ne sono molto consapevoli. Ognuno di voi ha un percorso, ognuno di voi fa le proprie scelte su cosa credere e cosa no. Io sono qui solo per raccontarvi un'incredibile storia d'amore, cioè che c'è un cambiamento in arrivo e che la Terra stessa si stava preparando adesso per voi, posizionandosi in modo che voi possiate avanzare e apprendere la coerenza col pianeta, con voi stessi. Parlando di un tempo in cui l'umanità inizia ad uscire dalla vecchia energia che chiamate natura umana. Non si è mai spostata e non è mai cambiata, e adesso sta per farlo. Le profezie non si sono mai riferite al tempo tanto quanto la coscienza e al cambiamento, sia che si tratti del calendario maia o della pietra della profezia opi. Erano le stesse. Parlavano di un percorso diverso che potevate prendere riguardo la ripartizione tra luce e ombra. A modo loro, parlavano di un pianeta in transizione e che se non vi foste distrutti, grazie alla magia delle precessioni degli equinozi, sarebbe iniziato un qualcosa. Un'evoluzione dell'umanità mai vista prima che sarebbe iniziata con la consapevolezza. Tutto ciò è stato ricamato, e voi dovete avere una terra che è stata preparata per questo. La griglia magnetica si sarebbe spostata e il clima cambiato. E allora parliamo del clima. Per molti anni ho parlato di ciò che sta accadendo al clima, ed è stato controverso sin dall'inizio. Sei-sette anni, forse di più, quando cominciaste a vedere quello che è chiamato il riscaldamento. E vi dissi che questo non sarà un riscaldamento ma un raffreddamento. Potete ritornare su questo nelle registrazioni passate e creare un altro scenario catastrofico che è molto comune per l'umanità. Voglio fare una dichiarazione e sarà ripetuta. Lo scenario catastrofico nell'umanità, che è così radicato in voi, è un'abitudine, e tutte le volte che vedete qualcosa di inusuale la prima cosa che pensate è la catastrofe. Siete stati addestrati a pensare in questo modo dalla storia, dalle scritture, dai vostri genitori, da tutti quelli che partecipano alle teorie della cospirazione che porta una miscela di orrore, e per la quale sembrano divertirsi mentre la creano. Lo scenario della catastrofe, miei cari, è un'abitudine. Non l'ho stata ancora attraversando. Questa è una storia d'amore e io voglio parlarvi del clima. Volete ripercorrere quello che sta accadendo all'attività solare, è sempre stato così. Potete vedere i cicli del clima sul pianeta e i cicli dell'attività solare, è stata registrata nella storia. Sono correrate. Non è un caso, non è un errore che stia arrivando un ciclo, e 14 anni fa vi abbiamo detto che sarebbe successo. Il ciclo arriva che ci siano umani sul pianeta o meno. Lo dobbiamo dire di nuovo. Il ciclo arriva sia che ci siano umani sul pianeta sia che non ce ne siano. Lasciate che le registrazioni vi mostrino che il ciclo è davvero costante. Inizia con il riscaldamento e con alti livelli di anidride carbonica, e alla fine termina con il raffreddamento. Il ciclo è stato completato e visto più e più volte. Vi abbiamo detto che questa sarà una mini-era glaciale. Le persone dicono, bene, quando? Perché non guardate al ciclo? La tempistica è lì, ve l'ho detto. Sarete all'interno della porzione fredda in 15 anni. Alcuni stanno ancora godendo della sua sezione di riscaldamento che sta iniziando a spostarsi lentamente. Deve accadere prima del raffreddamento. Una mini-era glaciale è un disastro per il pianeta? Avete visto la previsione degli artisti, le immagini che hanno disegnato di come sarà, con New York sotto la morsa del ghiaccio e tutte le altre cose che vanno bene con i film di fantascienza. Se volete sapere com'è una mini-era glaciale, allora andate semplicemente indietro nella storia e leggete cosa è accaduto all'incirca nel 1650. Quella è stata una mini-era glaciale. I fiumi si ghiacciarono, faceva freddo, e non ha distrutto il pianeta. Questa è una mini-era glaciale, questo è ciò che avete di fronte. E ve lo dico di nuovo. Se vivete in un clima freddo, tenete presente questo consiglio. Farà sempre più freddo. Ecco il consiglio. Uscite dalla griglia, entro i prossimi 15 anni trovate un modo di produrre elettricità e tutto ciò di cui avete bisogno indipendentemente, nelle case o nei quartieri, perché ne avrete bisogno. Miei cari, la griglia così come esiste in questo momento in tutto il mondo, non è preparata questo e si guasterà. Non è vedere tutto nero, è semplicemente pratico. È solo dirvi qualcosa che già percepite. Preparatevi a un'ondata di freddo, si tratta solo di questo. Voglio raccontarvi una storia d'amore. Perché Gaia fa questo? Qual è lo scopo di questo tipo di cose? Ve lo dirò un'altra volta, è controverso e incredibile. Quanti di voi hanno un acquario? Voi che state ascoltando, quanti di voi hanno un acquario? Vi dirò qualcosa che voi già sapete. Potete fare tutto quello di cui avete bisogno all'acqua, potete cambiare il livello del pH, potete cambiare la temperatura, potete arearlo, ma arriva il momento in cui dovete cambiare l'acqua. Questo è ciò che riguarda i cambiamenti della temperatura. È controverso. Prestate attenzione alle prove man mano che si verificano, e ricordatevi di questa canalizzazione. Il ciclo serve a rinnovare la vita negli oceani, in modo che tutti abbiano cibo. Lo fa da solo e lo fa per una ragione, in modo da non ristagnare. Eh sì, miei cari, voi mettete cose nell'aria e nell'acqua ma non è questa la causa del ciclo. L'abbiamo detto per molto tempo. Fermate l'inquinamento, perché ucciderà voi, non Gaia. Non Gaia. Gaia sopravvivrà a qualsiasi cosa facciate, e voi potreste non farcela se continuate a inquinare. Questo sta iniziando a cambiare perché state iniziando a vederlo e a spostarvi con esso, e questo causa il cambiamento. La barriera corallina sta morendo, e non dipende solo da voi. È un ciclo. È quasi come un riavvio per gli oceani e state per vedere il resoconto di questo e quello, ma nello stesso momento vedrete un'insolita segnalazione di troppo pesce. Troppo di qualcosa e cose insolite. Vedrete che il ciclo di vita degli oceani inizierà a cambiare e a ripartire. Voglio che non freintendiate questo. Voglio che facciate attenzione a una magia nell'Antartico. È sempre stato il cuore del rinnovamento dei microbi e di altre forme di vita in quest'oceano, ed è particolarmente attivo durante le miniere glaciali. Rinnovano la vita negli oceani. Rinnovano la vita negli oceani. E come influisce questo sull'umanità, in questa storia d'amore? Come funziona esattamente? Significa che avrete abbastanza da mangiare, perché l'oceano dà la vita, il cibo per il pianeta. È parte del ciclo vitale di Gaia, la Terra deve fare questo, ed è tutto correlato all'attività solare e a molto di più. La storia d'amore continua, non è vero? Non c'è più da aggiornare subito dopo il cambiamento. Cos'è il cambiamento? È un rinnovamento, un completo rinnovamento della civiltà rispetto a come la conoscete. Avete superato il paletto in cui erano previste la distruzione e la fine. Avete esagerato con la guerra, lo sapete. I sociologi si grattano la testa, e anche gli scienziati. E poi c'è un team di persone che stanno cercando di capire cosa sta accadendo, il miracolo che è davanti a voi. E ciò che stanno descrivendo, miei cari, dalla mia prospettiva, è la storia d'amore. Cari, sono stati preparati, così che abbiate abbastanza cibo, così che abbiate una più alta coscienza, così che le idee che vi stanno arrivando saranno accettate e non rifiutate. Così che, di conseguenza, arriverà un tempo in cui non vi ucciderete l'un l'altro. L'ho detto in precedenza. Miei cari, ascoltatemi. La fine della guerra sulla Terra non è la fine di tutto ma l'inizio, perché nel momento in cui non ci saranno più guerre, vi verranno date nuove invenzioni per la fisica, invenzioni che vi saranno date e che non saranno e che non trasformerete in armi. Ed è qui che inizia il cambiamento. Nel modo in cui vi nutrite, nel modo in cui vi vestite, e nel modo in cui ci sarà salute per tutti, nella fine delle sofferenze per il pianeta. Nell'inizio di una politica che ha senso e con governi che non litigano, un'unione del pianeta. L'ho visto. L'ho visto. Ce l'avete. E quindi, prendete queste informazioni, andate fuori e storcendo il naso dite. Beh, forse no, forse no. Questo, da un punto di vista sociale, sta iniziando. L'avete notato? Niente rimarrà lo stesso. E quando inizia questo cambiamento la reazione è di paura. Quando vedete gli economisti iniziare a cambiare, e nuovi paradigmi vengono presentati, che devono essere fatti per risolvere, per sanare, per salvare un sistema, a loro non piacerà. Volete che tutto rimanga uguale a prima? Voglio iniziare con quelli che dicono. Vedete? Questa è la fine del pianeta, sta arrivando. Lo stanno già facendo. Siete nel cambiamento da cinque anni. Madre, quanto ci vuole a crescere un bambino? Sto ascoltando dal pubblico 40 anni, che non è corretto. Diciamo 20, e durante questo tempo la storia d'amore è lì. Non importa quello che accade quando hanno tre anni, 5, 11, 17, la storia d'amore rimane. Non importa se scalciano o urlano chiamando il vostro nome, se sono frustrati o hanno problemi di autostima. Voi siete lì e fate del vostro meglio, perché l'amore di un genitore è insuperabile. Avete dato alla luce una nuova energia, un nuovo paradigma sul pianeta, e avete cinque anni. State iniziando a ruotarvi dicendo sta realmente accadendo? È veramente un cambiamento o è la fine del mondo? Questa è la natura umana. Tornate indietro con me a migliaia di anni fa, venite indietro. Fingete per un momento di essere un piccolo gruppo chiamato israeliti, e siete pronti per spostarvi fuori dall'Egitto. Avete sofferto l'orrore per molti anni come schiavi. Non vivete molto a lungo e lo sapete. Generazione dopo generazione, non si vive a lungo, non vivete a lungo. E poi accade qualcosa. Con i vostri stessi occhi, israeliti, potete vedere i miracoli che avvengono uno dopo l'altro, dal cambiamento di mente selvaggia fino a quello più grande. La Pasqua. Dovete vederlo con i vostri occhi, le piaghe. I miracoli, tutto questo. E poi siete in grado di scappare. Preparate le vostre cose e vi spostate come civiltà attraverso il deserto. Attraversate il Mar Rosso e dovete attraversarlo, e il selvaggio non vi ha seguiti. Questo è stato il miracolo dei miracoli. Eravate lì, eravate soli, eravate liberi, eravate liberi. L'avete visto coi vostri occhi. Era nei vostri occhi e nel vostro cervello, lo avete fatto vostro, l'avete visto. Poi avete iniziato a girare in tondo attraversando il deserto verso la terra promessa. Ecco che arriva, ecco che arriva, la terra promessa sta arrivando, sta arrivando. E non arrivò abbastanza velocemente, no. E in cinque anni avete perso alcuni dei vostri padri, avete perso un po' della saggezza, negli anni della morte venne a mancare la guida degli anziani. Eravate gente giovane, iniziaste a respingere l'insegnamento, non credevate più in un Dio uno. Ignoraste tutto ciò che avevate visto, e poi ecco che arriva la terra promessa. Riconoscete lo schema? L'ho detto su un palco in Israele non molto tempo fa. Ho detto loro qualcosa che non volevano sentire. Ho detto che stanno ancora girando in tondo, che la terra promessa è la nuova Gerusalemme. Che quando usciranno dal paradigma nella scatola, della vecchia energia di odio, di paura e guerra e dell'aspettarsi altrettanto dalla controparte, le cose cambieranno, e che continueranno ancora a girare in tondo finché non faranno loro il concetto. Ora vi darò un'informazione, miei cari. L'amore di Dio non sterminerà questo pianeta mentre avete cinque anni. È libero arbitrio. La precessione degli equinozi ha una tempistica nel procedere attraverso la striscia nel cielo che è la Via Lattea, dentro e fuori di quella area magica. Diciotto anni all'interno e diciotto anni fuori, per un totale di trentasei anni. Un nove. Compimento. Siete da cinque anni dentro questa finestra di diciotto anni, che vi abbiamo detto essere il tempo in cui potete fare la differenza. Ascoltate cosa vi abbiamo esposto e non abbiate paura di quello che vi dicono gli altri. Dovresti avere paura. Una mini-era glaciale sta arrivando per ripulire gli oceani e per nutrire questo pianeta. Ci sono quelli che dicono, questa è la fine e resterai congelato. Ecco quanto Dio ti ama. Potete immaginare di attraversare tutto questo, passare attraverso il cambiamento, avere tutte le informazioni e la scienza che sta arrivando attraverso questo tipo di compimento. Passare attraverso ciò che state passando. Vedere quello che è stato predetto, combattere l'armata oscura, guardare la luce e l'ombra che mostrano ciò che dovrà accadere. Tutte cose per le quali vi state preparando, e Dio vi farà fuori. Cosa ve ne pare finora? Miei cari, questa è una fantasia. Voglio che celebriate l'amore di Dio e i cicli che sono qui, le informazioni che avete udito, e che comprendiate che state per riscrivere il finale catastrofico. C'è stato un film l'altra notte, un film di fantascienza, ho canalizzato prima. È uno dei primi dopo anni e anni, in cui gli alieni visitavano la Terra. Con amore nella loro coscienza come voi, e avevano bisogno del vostro aiuto. Non erano venuti per distruggervi, non avevano portato le loro armi per rubare il vostro oro o i vostri oceani. C'è della vita nell'universo, miei cari, che è molto più avanzata di voi. E non sto dicendo che hanno la testa più grande. Sto dicendo che hanno compassione, saggezza e intelligenza, e che hanno risolto loro problemi di pace molti anni prima di voi. Vi guardano ma si tengono fuori dalla faccenda perché avete libero arbitrio. Vi hanno sempre guardati, vanno e vengono. Ho dato una canalizzazione in Turchia sul fatto che ci sono state civiltà prima della vostra, si chiama la storia prima della storia. Ci sono cose che avvengono su questo pianeta al di là di voi, vi abbiamo detto questo. Abbiamo fatto arrabbiare gli storici con la canalizzazione attorno alla sfinge, dicendo che quella non è stata l'era della sfinge, bisogna andare molto prima di quell'epoca. Ci sono cose che non sapete, di cui non vi rendete conto e che non riconoscete, ma lo farete. Essi uniranno a voi per farvi comprendere che questa è la vetta. State per sperimentare più cambiamenti. Questa mattina vi abbiamo detto che l'oscurità sorride quando avete paura. Dipende da voi quanto ancora sorriderà. Vi abbiamo detto che non potete distruggere l'oscurità e l'unico modo è creare più luce. Più luce c'è meno scurità ci sarà sul pianeta. Proprio adesso vi trovate al punto di fare delle scoperte sociali. Avete ascoltato cosa è stato esposto su questo palco da chi sta iniziando a capire la compassione, la coerenza e il significato, l'intento del cuore. Stai incominciando, questo non è l'inizio della fine. Vorrei che ve ne ricordiate. Quando lascerete questo posto e ci saranno quelli esoterici e quelli non, che vi parleranno delle ultime notizie e vi diranno sempre che la fine è vicina. Quando il mio partner è nato la prima cosa che ha ascoltato in chiesa è che la fine era vicina. Viene ascoltato da altri che continuano ad andare nella sua chiesa. La fine è vicina. È sempre vicina. La scatola che avete è quasi vi richiede di avere paura. Vi chiediamo di disassemblare la scatola, magari è tempo di creare un nuovo paradigma di credo e capire che tutti gli altri sono un'ombra davanti a voi. Anime antiche, siete i precursori di ogni cosa qui. Il cambiamento, voi siete la ragione per cui siete seduti in questa stanza, o ascoltando questa canalizzazione. Anime antiche prendete quanto detto seriamente, e quando qualcuno vi dirà che questa è la fine del mondo voglio che sorridiate e diciate loro il motivo per il quale non lo è. Dite loro che Dio li ama troppo per fare questo, che è una storia umana e non una storia sacra, la storia d'amore più grande di tutte, quanto Dio vi ama. Ce l'avete fatta ad apportare il cambiamento e avete iniziato a reclamare una guarigione fatta di cambiamento, per quanto spaventoso e preoccupante possa essere. Chi meglio di chi ha vissuto centinaia di vite e ha la saggezza della cascia, chi meglio può condurre questo pianeta attraverso tutto ciò? Siete voi. Questa è la grande storia, la storia d'amore. La sentite? Forse sentite la coerenza tra me e voi, oggi, mentre vi do informazioni che sono buone e nuove, promettenti e vere. Vedrete. Andate via da qui diversi da come siete arrivati. Siate cauti quando parlate con gli altri in modo da non spaventarli, con qualcosa che pensano essere un credo e che invece è una grande verità. E possono vederlo nei vostri occhi perché siete equilibrati al riguardo. Questo è il messaggio di Crayon, lasciate che sia così. E così è.